Sì, la situazione è molto grave e speriamo che ora a febbraio e marzo ci facciano riaprire perché così non riusciamo proprio più ad andare avanti. Come si sta comportando invece la gente per quanto riguarda invece l'asporto e il domicilio? L'asporto, il sabato e la domenica abbiamo un po' più di gente, il resto dei giorni molto poco e anche a pranzo non riusciamo ovviamente a sopperire alle spese che abbiamo con quello che facciamo. Quando invece si parla di zona zale e quindi le aperture a pranzo sono possibili, il ristorante rimane aperto a pranzo o preferisci invece rinunciare? No, no, faremo ovviamente l'apertura a pranzo perché almeno giusto ecco sempre per pagarci ovviamente le spese fisse che sono ovviamente tante, anche se non ci risolve comunque il problema finché non ci fanno riaprire la sera la situazione comunque rimane sempre grave. Un pensiero su questo fatto che la sera rimane comunque un po' un tabù da diverso tempo? Questo fa sì che insomma la situazione si aggravi ancora ancora di più quindi speriamo veramente che ci facciano riaprire il prima possibile perché sennò purtroppo saremo costretti a chiudere. Ma la situazione al momento non è delle migliori. Diciamo un ristorante abituato a avere la clientela e dover lavorare solo con sport e consegne a domicilio ben sappiate che non è facile andare avanti in questa situazione. Diamo al massimo, ringraziamo anche i clienti che comunque sia ci danno la possibilità di poter lavorare in questo periodo così difficile. La situazione anche giallo, arancione, rosso, questo quindi non ha aiutato? Ma per il nostro ristorante diciamo o giallo o arancione cambia poco essendo un ristorante che per la maggior parte lavora la sera ben sapete che anche con la zona gialla si può stare aperti solo al giorno e noi non abbiamo una clientela per il giorno diciamo tranne il sabato e la domenica ma però questo non basta, non ci può bastare. I clienti come si stanno rapportando con l'asporto e il domicilio perché fate consegne? Diciamo noi questa cosa qui fortunatamente ce la siamo creati da quanto abbiamo aperto per quasi otto anni e abbiamo creduto nella sport e nelle consegne a domicilio e questo fa che ci dia la possibilità di lavorare un pochino di più forse di altri che lo stanno facendo adesso ma non basta, non può bastare. Non può bastare però come si dice stringiamo la cinghia e speriamo in momenti migliori. Momenti migliori, ha sensazioni che potrebbero arrivare quando? Ma io spero il prima possibile ma non lo credo molto a breve. Io penso che ancora ci saranno un paio di mesi per andare avanti in questa situazione e poi sicuramente quando arriveranno i primi caldi avremo la possibilità forse di poter lavorare di più ma la mia paura è che finita l'estate un'altra volta ritorniamo nella stessa situazione. Spero di sbagliarmi ma il mio pensiero è quello, è tanta paura.